bella regà qua è sadis che vi parla bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi sul canale come ben sapete ultimamente di gta mi sono rotto il cazzo e quindi stiamo iniziando a fare esplorazioni e altri tipi di contenuti sul canale comunque stavo dicendo la settimana scorsa siamo andati a visitare il tunnel antiaereo ed era veramente lungo ragazzi e alla certa ci siamo dovuti fermare per il fattore polvere e nebbia strana quindi oggi ci siamo muniti di mascherine e entriamo fino alla fine ci vediamo dentro si va davanti siamo all'interno come promesso con le mascherine sia io che con e proseguiamo verso la fine attenzione vittura vittura tira lui e e e e e e e e e no Is this here? It's a manoeuvre, 22mm We're here, now it's not going to be a hell Sì, sì. e dai tu ti devo riprendere no? no no e mi giri veloce e mi giro nel buco all'acqua come don cazzo ah non bri ah ti do' oi ga? no ok to' dio 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 anato a- 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 Grazie a tutti. 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 Niente raga, siamo arrivati alla fine, come da promesso ci siamo ritornati, mannaggia a me che voi l'ho promesso, perché veramente, anche con la mascherina, ma non stretta bene raga, ho fatto danno e mi è entrata tutta la polvere all'interno. Quindi potete solo immagino, ci vediamo alla prossima, ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti.